Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Oggi siamo qui con lo speciale dei 150 iscritti quindi veramente fantastico Io non dovevo fare questo video però lo faccio per ne approfitto insomma per dirvi delle cose Cioè perché devo fare una serie di cose quindi è meglio che ve le dicono Tanto è uno speciale, non c'è nulla dato Allora ragazzi io tanto per iniziare vi ringrazio per esservi iscritti per continuarvi ad iscrivere Perché arrivare ai 150 iscritti è già un raguardo abbastanza buono Cioè quindi non è scarso, è buono Perché per ora ultimamente fare gli iscritti su Youtube è sempre più difficile Perché molta gente si iscrive a Youtube quindi è più difficile essere conosciuti diciamo Quindi ragazzi io vi ringrazio sempre per esservi iscritti Voi continuate ad iscrivervi così io vorrei arrivare, io ho un obiettivo e vorrei arrivare ai 100.000 iscritti Però non so quanto ragazzi io non vi metto fretta però questo è il mio obiettivo 100.000 iscritti, il mio obiettivo da Youtube Allora ragazzi iniziamo subito con quello che vi devo dire Allora ragazzi per dirvi allora vi devo dire che con questo speciale vorrei cambiare il nome del mio canale Ebbè non mettere più il mio nome e il mio cognome ma mettere un nome d'arte diciamo Quindi un nome inventato cioè quindi gli metto Io avrei tirato per Ant the Gamer Allora ragazzi io lo lascio qua sotto Cioè il... qua sotto che cazzo voi... Raga io oggi... vabbè A parte che sparo stronzata la cazzo Comunque Allora si prende il coso no? Ma che cazzo dico? Allora ragazzi aspettate un attimo eh Devo ritornare in concetto Allora ragazzi io per ora il canale lorri là lo lascio con questo nome Il mio nome e il mio cognome Poi voi qui sotto nei commenti Mi dovrete scrivere se Ant the Gamer vi va bene Cioè anzi io vi scriverò Ant the Gamer Se voi mi mettete i pollici in su nel commento Ant the Gamer Metterò Ant the Gamer Se voi poi me ne consigliate un altro e qualcuno gli mette il pollice in su Cioè chi ha più pollici in su diciamo Il commento viene messo nel mio canale il nome Quindi raga ve lo faccio sia scegliere a voi Io già l'ho fatta Ant the Gamer Se voi vi va bene io vi metto questo Allora ragazzi Poi ho intenzione di fare un vero World True di GTA V per PlayStation 4 Cos'è il World True? Per chi non lo sappia Allora il World True è semplicemente Un'espansione Come si potrebbe dire Una recensione diciamo di tutte le missioni della storia Quindi cioè io vi faccio vedere dalla prima all'ultima missione Però ragazzi registrate con l'HDPVR Perché poi lo devo comprare La webcam che mi guarda sempre che mi fissa Quindi raga l'HDPVR con tutto fatto bello bene bene Quindi non mi dite che World True già l'avete visto perché io lo farò su PlayStation 4 Quindi ci saranno magari qualche missione in più Qualche dettaglio in più in una missione Quindi sarà tutto nuovo diciamo Poi ragazzi Ho intenzione di fare una costa a costa Con TechRew Quindi veramente Prendo una macchina Mi metto tipo a Los Angeles E vado da Los Angeles a Miami In varie parti di video Senza tagliarli Senza fare tagli Senza nulla proprio Cioè io parto da Los Angeles E arrivo fino a Miami Io vorrei fare a mezz'ora di video Perché ci vogliono tre ore hanno detto Per arrivare da qua là Quindi Veramente è un bordello Quindi Io Poi ragazzi Ho intenzione anche di fare Un altro episodio di GTA 5 Squale alla deriva Allora ragazzi Non so se vi ricordate quel famoso video GTA 5 Squale alla deriva Quel video Ha fatto un casino Di visualizzazioni Ragazzi Cioè qualcosa di veramente Assurdo Cioè quindi Io vi ringrazio Sempre vi ringrazio Per quello che mi state facendo fare Perché Io Voi state portando Un youtuber A crescere A aumentare la sua passione Da youtuber Quindi Non la state peggiorando Ma la state migliorando Perché io non mi posso lamentare Di un canale Che mi fa Circa 500 visualizzazioni Al giorno Quindi io non mi posso lamentare Grazie mille ragazzi Grazie mille Quindi ragazzi Tornando al discorso Io Farò Un vero e proprio Un altro episodio Di GTA 5 Squale alla deriva Però Questa volta Andremo a caccia Degli squali Martello Su Playstation 4 Ovviamente Tutto registrato Con l'HDPVR Perché Quindi Allora ragazzi Che dirvi Io Ho quello Quello che vi dovevo dire L'ho detto Quindi ragazzi Io vi ringrazio Ancora una volta Quindi grazie mille Grazie mille Ragazzi 150 iscritti Quindi voi Continuate ad iscrivervi Al canale Continuate a fare Quello che volete Scrivete nei commenti Mezz polliciate Fate quel che cavolo Volete Quindi ragazzi Che dirvi Voi lasciatemi Sotto nel commento Se andate gamer Vi va bene Quindi ragazzi Che dirvi Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Lasciate un bel vi piace E noi ci vediamo Al prossimo video Bella ragazzi